Vai, 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 nooo! Nooooo! Ma tu manca? Ma tu manca? Ma tu manca? Non importa se mi opinirò nei guai È tu che l'unico amore sei Non ti ho tradito mai Oh oh oh, oh oh oh, oh 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 oh, oh oh, oh oh Nienile! Mari! Io non ti lascerò, sempre con te sarò, e non importa se io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. Tieni là, tieni là, tieni là! E' finita! E' finita! E' finita! E' finita! E non importa se io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. Oh 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 che sarò e non importa se, io mi dirò nel guai, tu mi vuoi voler ser, sono un carino non mai, 올라, oh 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 la guerra mondo è, io sol'ò per te mi alothi nascerò, si prende domandai, non importa Grazie a tutti. 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 Da Torino a parte, si fa mille chilometri per vedere Michele. Grazie a tutti. Ci soffrono tutti. Quando ci chiudono gli spazi ci aggrediscono, ci mordono le caviglie, non ci lasciano respirare, andiamo in difficoltà perché non abbiamo la fisicità. Perché non abbiamo la fisicità per riuscire a superare tanti tanti duelli durante la partita. Soffriremo come dei cani a Cagliari sarà una roba indicibile, poi magari la vinceremo, speriamo, non lo so, ma la soffriremo di più di oggi. oggi ci davano per spacciati, come a Madrid, abbiamo vinto a Madrid, abbiamo vinto oggi, come nel derby, abbiamo vinto nel derby, come a Bergamo. Ogni volta che ci danno per spacciati ogni volta che ci danno per spacciati i vicini, quando ci danno per spacciati i vicini. Gerù è l'insalata, non è buona, non è pane e nutella, ma ti serve per mantenere la linea, per mantenere il fisico scolpito, ti serve. E' utile, è utilissimo. Ascolta i Valdostani, ascolta i Valdostani. Calabria ha sbagliato più del solito, strano, non mi è piaciuto Calabria oggi, ha sbagliato troppo. Non me ne fotte niente perché abbiamo vinto, però ha sbagliato troppo, rispetto al solito ha sbagliato troppo. Bagnana ha la solita sicurezza, Tomori è super l'attivo, un muro, una diga, un muro, un qualcosa di incredibile, Tomori è da otto e mezzo. Calulu, bravo, poi mi devo andare a rivedere la partita, ma da qua mi è sembrato quasi nessuna sbavatura, sette. Teo ha corrente alternata, però va, è stato utile. Almeno sei e mezzo, forse anche sette, forse dopo che rivedo la partita gli do anche sette, non lo so. Per adesso sei e mezzo. Il numero 79, primo tempo male, 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 male. Secondo tempo si è ripreso un po', faccio fatica a dargli sei, ma lì do sei perché comunque il secondo tempo è stato utile. Tonali sei, sei di tonali è un insufficienza perché tonali come minimo di solito prende sette, almeno per quanto mi ricordo. Ben Nasser, primo tempo così così, secondo tempo meglio, sei e mezzo. Leao a fasi alterne, un sei se lo può prendere. Chi c'è ancora, non mi ricordo più, Messias può fare di più, deve fare di più. Giroud ha delle qualità tecniche superlative, cinque e mezzo. Giroud è decisivo, sette, non è. È decisivo, Rebic è entrato bene, sei e mezzo. Sei e mezzo. Florenza è entrato bene, sei e mezzo. Il mio pronostico è sempre lo stesso. Oggi, dopo che abbiamo partito con l'Udinese, dopo che abbiamo perso con lo Spezia, dopo il pareggio di Salerno, non siamo, non siamo, non siamo, non siamo, non siamo, non siamo, non siamo la CUP! Lo sappiamo, lo sappiamo. Dopo il pareggio di Salerno il mio pensiero è sempre lo stesso, è sempre lo stesso, è sempre lo stesso. E siamo ancora lì, nonostante tutto e tutti, nonostante che dobbiamo perdere, nonostante qua, nonostante... Abbiamo staccato questi tre punti e la Juve li abbiamo rimandati a meno sette. Questo è un regalo, questo di oggi è un regalo di nonna che è andata lassù. Poteva aspettare ancora un po' prima di darmi questa mazzata, invece sei andata lassù. No, vedi appena lui! Mi ha fatto, ci ha fatto questo regalo, immenso. Mi ha regalato praticamente la sua vita, da 35 anni a questa parte. Non hai capito che cosa sia? Diciamoli grazie. Sempre solo, forse vecchio cuore rosso nero, sempre solo. Il diavolo non muore mai, il diavolo non muore mai. Scaffatevi in campo, ve lo dovete scaffare in te, ve lo dovete scaffare in te, ve lo dovete mettere in testa, il diavolo non muore mai, il diavolo non muore mai. Buon appetito a tutti i punti di deal Julie Sphurti, con Christmas! Salutiamo! Salutiamo! Salutiamo questa città gura di la Madre. Salutiamo! Salutiamo! Salutiamo Diletta Leotta! salutiamo Dilezza Leotta chi ha detto che che domani preparare la colazione a tutti quanti qua sto godendo sto godendo è una frase d'obbligo starei godendo se non pensassi ma siccome purtroppo penso adesso a lavorare adesso godere è difficile una settimana del genere con un pezzo della mia vita che non c'è più è andata via però per questi colori sto godendo ciao nonna grazie di tutto c'è stato un meso, sei, un meso col diavolo in fondo al cuore ci facciamo i chilometri superiamo gli ostacoli col diavolo il fondo al cuore bruciali tutti e giuro bruciali bruciali tutti e giuro bruciali grazie a tutti